Tra preoccupazione e dubbi e polemiche sono iniziati i lavori preparatori del cantiere per la riqualificazione di Corso Garibaldi, dove sarà sistemata la pavimentazione di pregio e nuovi arridi urbani. Un intervento più volte rimandato per questioni finanziarie dal Comune, inizialmente molto richiesto dai commercianti per rilanciare una zona in forte difficoltà. Eppure ora l'avvio del cantiere sta incontrando resistenze proprio da parte di alcuni negozianti divisi sul calcolo tra costi e benefici di un intervento molto impattante sulla viabilità e quindi sugli affari. Memori del passato cantiere sulla via, alcuni sono corsi già ai ripari, non senza una punta di polemica, avviando una svendita totale, causa lavori stradali. Lavori che saranno realizzati in due fasi. La prima interessa il tratto da via Milazzo a via Goito, la seconda da via Goito a via Villa Glory. Il transito pedonale è sempre possibile, consentendo quindi di raggiungere abitazioni e negozi, in quanto il cantiere occuperà solo la sede stradale. Quando i passi carrai non saranno agibili per il cantiere, i titolari potranno sostare nelle aree per residenti di tutto il centro storico e potranno contare anche su dieci posti auto riservati in via Palestro. Inoltre, la prima ora di sosta nel parcheggio di via Villa Glory sarà gratuita. Per le attività commerciali sono disponibili le abituali aree di carico e scarico di Corso Garibaldi.